Massimo, siamo qua con Massimo, Massimo hai portato qua i due bambini con questa mossa, un multidecso gigantesco, come sta andando questa mossa e come ti sta sembrando? Molto positiva e interessante, acculturante. Tu invece, diciamo, sei un ragazzo, ragazzino, come ti sta sembrando questa mossa di dinosauri che la maggior parte è dedicata a voi? Molto istruttiva. Ti stanno piacendo questi dinosauri? Ti aspettavi di vedere, guarda, un dinosauro così grande? No. Quando l'hai visto? Facci la tua espressione, come hai fatto? Come ho fatto? Va, vai tu? Io da qua. Cominciamo da qua, siamo, aspetta un po' città, ok, siamo qua con anche Mara, Mara, come ti sta sembrando questa mossa di dinosauri? Oh no, non so. Ti aspettavi un qualcosa di così bello o? No. Quando hai visto questo, ti direi che sia così grande, perché lì c'è un altro grande, ma questo qua è ancora più grande. Cosa hai pensato? Facci la tua espressione. Quando l'espressione me l'hai cambiata. Quando tornerai a casa, cosa direi ai tuoi amici? No, dico, sono a Napoli. Ma non sei di Napoli? No. Ti aspettavi di venire a Napoli e di trovare i dinosauri? No. Ok, facci un saluto a tutti quanti? Tutti quanti. Ok.